Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare fra di loro gli animali Come fa il cane? E il gatto? La cenetta? La mucca? La rana? La pecora? E il coccodrillo? E il coccodrillo! Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa! Si dice mangi troppo, non metta nel cappotto Che corri del tibunga, che molto spesso venga Però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa! Si arrabbia, manostrilla, sosseggia, camomilla E mezza tormentato se ne va! Guardo sui giornali, non c'è scritto niente Sembra che il problema non imparti Alla gente! Ma se per caso al mondo c'è qualcuno che lo sa La mia domanda ancora questa qua Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa! Si dice mangi troppo, non metta nel cappotto Che corri del tibunga, che molto spesso pianga Però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa! Si arrabbia, manostrilla, sosseggia, camomilla E mezza tormentato se ne va! Adesso ripetiamo se vogliamo ricordare Come fanno per parlare fra di loro gli animali Come fa il cane? E il gatto? L'asinello? La bucca? La rana? La pecora? E il coccodrillo? E il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa! Si dice mangi troppo, non metta nel cappotto Che con i denti bunga, che molto spesso pianga Però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa! Si arrabbia, manostrilla, sosseggia, camomilla E mezza tormentato se ne va! Avete capito? Come fa il coccodrillo? Lui mezza tormentato se ne va! Ai conti? Abbiamo genocchio. E' qualcosa che vuole per aiutti buon Tu ti cazano il cuore dell'acqua Tu ti cazano che... C'è nessuno in dora del phenomenal C'è nessuno che trai